Se ognuno di noi in questi mesi avesse raccolto e portato via un sasso, oggi la strada sarebbe già libera. È questo lo spirito con cui Davide Molteni, artista di erba, propone un'iniziativa legata alla frana che lo scorso settembre ha interessato il tratto della statale regina nel comune di Argegno. Una performance artistica dove la mia iniziativa si chiamerà Rock on the Lake, dove cerco di prelevare delle rocce della frana, numerarle e poterle regalare ai passanti con su questo numero, numerate da 1 a 100. Giusto per far capire che se ci mettiamo tutti insieme riusciamo a prendere anche di questa frana, e di questa tragedia causata dall'intemperio piuttosto che riusciamo a risolvere dei problemi con tutte le macchine che passano durante il giorno, nell'arco di due giorni se si voleva si poteva fare. Questa non è una protesta contro istituzioni, contro chi regola la viabilità piuttosto che, è solamente un pensiero di forza comune che se riusciamo a metterci insieme possiamo fare qualsiasi cosa. Domenica l'artista sarà sulla Statale Regina a regalare i sassi recuperati dalla frana e portati a nuova vita. Mi piace il fatto di poter regalare, di poter aiutare anche la gente che tutti i giorni è costretta a fare questa colonna, ormai da sei mesi, gli regaliamo qualcosa di carino, gli dice perlomeno ho fatto tanta colonna ma ho anche un regalo in cambio. Questo mentre i lavori non sono ancora iniziati e vige la totale incertezza sul cantiere. L'auspicio del sindaco di Argenio, Roberto De Angeli, è che il ripristino della strada cominci dal prossimo lunedì. Speriamo di riuscire a salvare ciò che ancora si può salvare della stagione turistica in corso, aveva dichiarato il primo cittadino pochi giorni fa. La primavera però è ormai iniziata e si preannunciano weekend di lunghe code sulla Regina.